Buonasera, siamo a Lago Negro nel giardino di Palazzo Corrado e abbiamo avuto una giornata intensa, ricca di emozioni e da poco terminato la prima estemporanea dedicata all'artista che non c'è più a Lago Negro, Enzo Di Filippo. Questa mattina molti pittori arrivati da molte regioni d'Italia si sono dilettati a dipingere, hanno dipinto scorci di Lago Negro, l'antico borgo e praticamente si sono dedicati per tutta la giornata all'arte. Poi abbiamo avuto anche la intitolazione al nostro concittadino che si chiama Enzo Di Filippo proprio all'interno del Palazzo Corrado e qui c'è la sorella Maria Carmela Di Filippo che ha seguito direttamente tutta la manifestazione. Chiediamo a Maria Teresa, a Maria Carmela, qual è stata l'emozione. Sono emozionata anch'io perché anche tutto il giorno mi sono dedicata a lei, anche perché questo va detto. La giornata è stata voluta fortemente da Caleidos, l'Associazione Proloco di Lago Negro, l'amministrazione e il Museo Monnalisa. Buonasera Maria Carmela, parlaci tu di quello che è stata la tua emozione e quello che abbiamo fatto oggi in questo giardino, in questo palazzo storico. Buonasera, io sono Maria Carmela Di Filippo, la sorella di Enzo che di tutta la famiglia mi hanno dato incarico di diventare curatrice un poco di tutto quello che è Enzo. Ci ha lasciato una grande responsabilità, ma tanta arte. Soprattutto Enzo ha lavorato 40 anni in questo paese e proprio vicino al Palazzo Corrado. Anche in questo palazzo Enzo ogni anno aveva una mostra, quindi siamo qui a ricordarlo proprio in questi giorni, nulla a caso, ma Enzo è qui, è in mezzo a noi. Enzo ci ha lasciato tante emozioni sulle sue tele, un linguaggio, un vero linguaggio. Parla di guerra, parla di pace, parla di amore, ma parla di tanti e tanti colori, della natura, di tutto. Enzo è qui, è accanto a noi, sempre. Noi lo dobbiamo vivere ogni giorno perché Enzo è una persona, era una persona perché purtroppo quattro anni fa ci ha lasciati. Però è rimasto l'artista, quest'artista grande che noi come famiglia siamo ancora emozionati di averlo avuto. Mi auguro che anche i concittadini e tutte le persone che vedranno Enzo, che vivranno Enzo tramite i suoi colori e le sue tele potranno apprezzarlo per l'artista che è ancora oggi. Nella sala dedicata a lui ci sono le opere degli artisti che hanno disegnato oggi per lui e anche un magnifico quadro dipinto che Maria Carmela ha voluto lasciare in visione permanente in questa stanza a lui dedicata. Cosa rappresenta quel quadro magnifico, anche abbastanza grande come misura? La grandezza è l'urlo, l'urlo alla vita, a tutto quello che lui vedeva con gli occhi del cuore, con gli occhi dell'artista, l'urlo di questo mondo che sta andando a rotoli, l'urlo alla vita di un artista e di un mondo che intorno a noi vive male. Ecco questo ha voluto dire, l'urlo, l'urlo di salvezza, cerchiamo di salvarci perché Enzo ha lasciato proprio questo messaggio. I temi sociali li abbiamo già detto, parla dell'aborto, della fame nel mondo, ha avuto premi, riconoscimenti un po' in tutta Italia e anche in Europa. E stamattina abbiamo visto un via vai di amici che sono giunti dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia per venire a questa manifestazione. Quindi Enzo non lo hanno dimenticato, addirittura hanno portato degli iscritti, diciamo delle esperienze che avevano vissuto quando lui era in vita. Come vogliamo in futuro fare in modo da lasciare in archivio queste testimonianze? Io mi auguro che questa manifestazione, ringraziando approfitto, ringrazio l'amministrazione comunale e la Proloco, che ci ha dato la possibilità di diventare un premio Enzo, un premio per tutti gli artisti che verranno, mi auguro spesso, nel nostro paese, nella nostra Lucania. E anche e soprattutto il GAL che ci ha dato in questo momento l'opportunità di questa bellissima manifestazione. Cosa dire? Enzo è qui. Io sono molto emozionata ma mi auguro che possiamo viverlo ancora perché Enzo ha lasciato tante cose e soprattutto tanto lavoro. Quindi in questo momento spero che anche l'anno prossimo ci ritroviamo in questo palazzo a premiare questi artisti che sono venuti a dipingere per lui, per la nostra città che è il Lago Negro. E io ringrazio, ne approfitto per ringraziare gli artisti soprattutto che hanno creduto in questa bella esperienza per me, per la prima volta, che Enzo mi ha lasciato insieme alla famiglia, logicamente, perché non sono qui accanto a me ma ci sono tutti. Voglio dire questo, abbiamo avuto una giuria, molto qualificata. C'è una giuria qualificata che sta, insomma, in questa serata farà la sua valutazione dei dipindi che i pittori hanno dipinto da questa mattina, realizzato dipinto questa mattina degli scorci del nostro paese, emozioni di Lago Negro. Tutto quello che hanno visto l'hanno dipinto sulle tele. Ricordiamo che il primo premio in denaro, 300 euro, il secondo 200 e il terzo 100 e poi altri riconoscimenti. La giuria è stata, diciamo, capitanata da un esperto, Vittoria Petrova, dall'architetto Claudia Di Fazio, da Angelo Iacovino e da un'altra signora, mi pare, che ci sia. E sono stati tutto il giorno a seguire gli artisti passo passo, fino al castello, è vero Maria Carmela? Sì, fino al castello. Siamo stanche perché, voglio dire anche questo, abbiamo partecipato insieme, quindi siamo stanche, emozionate, però è stata una giornata ricchissima di eventi. Abbiamo portato da mangiare ai nostri artisti che hanno apprezzato. Abbiamo avuto la visita del nostro, del neosindaco, dottore Pasquale Mitidieri, che ci ha seguito anche lui passo passo e, diciamo, la popolazione ha partecipato veramente. Intensamente, portando voci e soprattutto esperienze avute con Enzo, De Filippo, questo attore che era per strada, anche lui sempre, dove, oltre a lavorare nel suo studio, era sempre in mezzo agli altri. Ognuno di loro ha detto qualcosa. Io li ringrazio e ringrazio soprattutto Agnese Belardi, Donata Martina, che è il presidente della Proloco e anche del Gal, insomma, collabora con il Gal, Nicola Timpone, che in questo momento ci è stato vicino, e tutti gli altri, che non riesco a ricordarmi, Nicola Mastroianni, che è nel nostro direttivo, e insomma... E gli artisti che sono venuti da ogni dove. Maria Carmele, la prossima tappa, va detto all'Eco di Basilicata, sarà a Matera? Sì, mi auguro di sì, che possiamo fare in modo che Enzo resti anche un pittore lucano, e tutti gli effetti, come è da conferma, abbiamo avuto fino adesso. Che dire, ringrazio tutti, ma soprattutto questa iniziativa mi dà una grande emozione e tanta gioia, e mi auguro che questa gioia possano vederla tutti. Bene, buona serata. Grazie.